Ciao a tutti amici, faccio un breve video per mostrarvi come andare a configurare un ambiente Python. Infatti, ben sapete che ogni progetto necessita di particolari librerie per poter eseguire lo script Python. E non è buona norma andare a installare queste librerie nel Python, diciamo, di sistema. E quindi cosa si fa? Di solito si procede a creare un ambiente virtuale Python in modo che si possano installare in quell'ambiente solo le librerie che sono effettivamente necessarie. E così faremo per tutti i tutorial che vanno a riguardare questo canale. Quindi, cosa facciamo? Allora, ci spostiamo nella directory, ad esempio, del codice che vi faccio scaricare. In questo caso sono nella directory di analisi quantitative. Lanciamo il comando ls e vediamo tutti i taccuini degli Jupyter Notebook, scusate, oppure i vari script Python. E come vedete non c'è nessuna cartella che va a indicare l'ambiente virtuale installato. Naturalmente vi potete aiutare con questo vademecum che ho realizzato per voi, con tutti i comandi principali per andare a realizzare un ambiente virtuale in Python. Quindi, il primo script che dobbiamo lanciare è quello per la creazione di un ambiente virtuale, che è questo qua. Quindi una volta che naturalmente avete già installato Python 3, quindi si lancia Python 3, meno m, venv per dire che si sta andando a creare un ambiente virtuale. A questo punto ha completato l'operazione, quindi se lancio il comando ls, vedete che è stata creata la directory venv. Quindi, seconda operazione, dobbiamo avviare l'ambiente virtuale e questo si può notare which python 3, come vedete in questo caso la directory fa riferimento alla cartella di sistema del mio computer ed è, diciamo, l'interprete python 3 che attualmente è in esecuzione sul mio computer. Se io adesso vado a lanciare l'interprete python 3 che è presente nella cartella venv, lo si fa con questa istruzione che tra l'altro dovrebbe essere riportata qua, qui vabbè, c'è semplicemente un esempio, ma si lancia il comando source, si entra nella directory venv, din e poi activate. Dopo che lo lancio, tra l'altro potete vedere anche che è in esecuzione perché compare tra parentesi il nome dell'ambiente virtuale appena creato. A questo punto cosa si fa? Lancio sempre la solita istruzione which python 3 e come potete vedere la directory è cambiata totalmente, fa riferimento al path appunto della directory venv. E quindi sappiamo che tutte le librerie che verranno installate da questo momento non verranno più installate all'interno dell'interprete di sistema ma all'interno della directory dell'ambiente virtuale. e quindi nel caso comunque non ci servissero più queste librerie sarà sufficiente semplicemente andare a cancellare quella directory appena creata. La seconda operazione da fare è installare le librerie che ci servono per l'esecuzione del progetto. Quindi in questo caso quando voi andate a scaricare il codice sorgente che io vi fornisco vedete sempre un file di testo che si chiama requirement.txt Se si va ad aprire potete vedere che non è nient'altro che un elenco di tutte le librerie che sono necessarie per lanciare i miei codici con le versioni annesse. Naturalmente non è fattibile andare a installarle una a una ma si vanno a importare tutte insieme all'interno dell'ambiente virtuale. Per farlo vi ho riportato anche in questo caso l'istruzione che è questa qua. quindi si va a dire di andare a installare tutte le dipendenze comprese in questo file. Si lancia invio scusate c'è una S di troppo e come potete vedere ora tutte le dipendenze stanno per essere installate. naturalmente ci vuole un po' anche perché in questo caso tra le dipendenze è compreso anche un piccolo ambiente di sviluppo che si chiama Spyder e questo richiede un po' più di tempo per essere installato. Comunque questa è la procedura per andare a configurare un ambiente virtuale Python. Una volta che tutto questo tutte le dipendenze sono installate allora è possibile andare ad eseguire il codice che vi propongo. va benissimo grazie a tutti con questo video abbiamo concluso e ci vediamo poi nei video più specifici dove andremo a eseguire concretamente il codice. Grazie a tutti per l'attenzione.